ciao a tutti faccio un breve filmato e faccio vedere come si sarebbe presentato il cambio del cr250 si è rotto montato perché ieri è caduto a pezzi quando l'ho smontato perché tanto puoi andare a revisionato adesso qui c'è l'ingranaggio rotto vedete questo ingranaggio rotto qua va qua che manca questa cinque marge infatti contate 1 2 3 4 5 1 2 3 quello che manca 4 e 5 qua c'è il desmo con le sue guide qua c'è la forcina c'è il perno lo spinotto chiamate come volete che tiene due forcine vedete che ce ne sono due uno non ci si può sbagliare a metterle perché hanno un'ampiezza diversa dove vanno come guide quindi si capisce qual è quella sopra qual è quella sotto qua anche ce n'è una che va qua che questa è piegata che è quella che ha fatto venire fuori tutto il casino che è piegata e rovinata perché il proprietario ha cambiato senza frizione si vede che essendo già usato il cambio ha dato il colpo la forcina si è piegata e così ha distrutto l'ingranaggio ha fatto tutto quello che ha fatto qua vedete tutti i pezzi rotti e qui dove ci va lo spinotto quello di corto che tiene la spina unica da sola qua è rotto ed è rotto anche qua vedete sotto qui e così vi ho fatto l'aggiornamento adesso poi qua ci sono denti rotti una cosa e l'altra e adesso io l'ho poggiato così senza vedere nessuno schema come pensavo che andasse anche con i rasamenti poi se c'è qualche errore non mi criticate perché poi non domani che si va a rimontare guardo gli spaccati di disegni e vedo esattamente dove vanno messi i rasamenti e le ruote così io l'ho composto con la mia testa con il mio ragionamento però poi quando si andrà montato che adesso il proprietario ti sa che dei pezzi usati man mano me li porta così poi si tirano su insieme e se lo tiro su metti tutti i pezzi assieme e lo rimonto allora poi guardo le specifiche bene sul disegno per gli spaccati per non fare degli errori buona domenica e ciao a tutti